Questa planta era usata per tagliare i tomatoli del campo. Per esempio, il padre mio padre usò questo metodo. Probabilmente, a qualche tempo, questo metodo è usato anche ora. È una metodo tradizionale, come molti altri cose tradizionali del mondo, che fu anche usato in tempi antichi e in tempi prehistori. Grazie. Grazie.